Che importa? A che serve registrare queste note se poi non le ascoltate? Abbiamo perso il controllo del punto zero. Lo capite che cosa significa? Pare di no, perché non state facendo niente. Ho dedicato la mia vita all'ordine. Ho dato tutto! E per cosa? Per stare a guardare la realtà che finisce! Noi non siamo così! O almeno io non sono così. Non più.